Allora, il 28 novembre del 1990 succedeva una cosa, cioè moriva Moravia, che detto così non è granché, però a me sembra l'opportunità per deviare un po' dagli autori di Quinto per parlare di Albertino, che se ne parla veramente poco. Allora, nasce nel 1907 ed era malato di tubercolosi ossea, e diciamo che questo gli regala un'infanzia esaltante tra sanatori in solitudine, senza mai frequentare la scuola, l'editorale ci viene raccontata questa cosa, immaginatevelo come tutto ingessato, quindi una mummia, che viene fatto passare dal finestrino del treno perché non ci passava dalla porta, quindi non è che sia stato granché la sua infanzia, però non tutto il male viene per nuocere, e cerchiamo di vedere il buono, e lui essenzialmente da qui regava un po' quello sguardo da estraneo, nei confronti di una classe che è la sua, lui viene dalla classe borghese, e sappiamo che poi con la borghesia non è che si prende benissimo, ma quando poi guarisce riesce a pubblicare giovanissimo il suo romanzo d'esordio, Gli Indifferenti, proprio perché viene da una famiglia borghese in realtà, però vabbè, piccola critica a parte, è un grande uomo, lavora come giornalista, scrive nell'Espresso, a fine vita entra anche in Parlamento, cioè quando ormai è vecchietto, è anche fratello dei cugini Rosselli, cioè fratello, cugino dei fratelli Rosselli, e questo diciamo non lo fa avere buonissimi rapporti col regime fascista, quindi diciamo che ogni tanto Moravia va a farsi un giro per cambiare un po' aria, perché non è che a Roma se la passi troppo bene sempre, ecco. La storia d'amore con Morante, piccolo momento gossip, allora Morante non è che stesse tanto meglio rispetto a Moravia, anzi se la passava veramente male, e quando vede Moravia trova lo scoglio a cui aggrapparsi, la grande salvezza, e i due, che bello, sono due scrittori, si aiutano o no, assolutamente no, competono in continuazione, uno è geloso e invidioso dell'altro, probabilmente, anche se hanno tutti e due quasi un successo immediato. Ora, Elsa Morante ha anche, diciamo, una storia d'amore quasi pubblica, di cui parla tranquillamente con Luchino Visconti, lei si innamora pazzamente di questo qui, e a Moravia va bene, perché dovrebbe fare una piega, insomma. Moravia poi, dopo che la storia d'amore con la Morante finisce pubblicamente, dirà di non averla mai amata, chissà, poi ovviamente non siamo nella testa dell'autore, però, guarda caso, anche quando lui si metterà con l'ama Raini, che era molto più giovane di lui, continuerà a sostenere sempre economicamente l'ex compagna, infatti i due poi di fatto non divorziano mai, eh. Ora, momento gossip finito, pensiero di Moravia. Abbiamo detto che se la prende con la borghesia, che è una classe brutta e cattiva, senza valori, dove i personaggi sono meschini, sono paralizzati, non combinano mai niente, i suoi romanzi girano attorno a due grandi cose, il sesso e il denaro. Tant'è che, diciamo, la critica non è che lo veda benissimo, Moravia. C'è Umberto Sabba, che io ho letto questa recensione, e fa ridere, che dice, allora tu sai scrivere, ok, partiamo da questo presupposto, però scrivi cose che non dovresti scrivere. Cioè, vabbè, Sabba diceva che Moravia insudiciava l'idea dell'amore, ed essenzialmente quello che insinua Sabba in maniera poco velata, diciamo, è che Moravia non sia troppo bene, che abbia subito qualche trauma. Lo stesso fa in realtà la Maraini, in una prima intervista che rivolge al suo futuro compagno, insiste tanto sul fatto che molti dei romanzi moraviani siano autobiografici. Ora Moravia dice, sì, ovviamente io scrivo delle cose che in qualche modo ho vissuto, però non è che scrivo la mia vita, quindi cercava un po' di discostarsi da questo elemento autobiografico che cercavano tutti invece nelle sue opere. Quindi questa grande maniera di trattare la borghesia. Però Moravia cerca di trovare in qualche modo quasi una soluzione quando per sfuggire a, diciamo, le persecuzioni fasciste, si trasferisce a vivere in campagna, e allora era ancora con Elsa, in questa capanna poverissima, dove però entra in contatto col popolo. E quindi dice, va bene, allora la borghesia è una classe inetta, e quindi rassegniamoci al puro vivere, al biologico, ecco, esattamente come il popolo, e quindi sono gli anni della Ciucciara, sono questi anni qui, quindi l'esaltazione dell'esistenza in sé per sé. Però poi torna al tema principale della sua vita, con uno degli ultimi romanzi che lui scrive, un romanzo bellissimo, che è La Noia, in cui si parla appunto di questo ennesimo personaggio borghese, che è un pittore, non riesce più a guardare la realtà, perché appunto è un inetto, come esattamente tutti gli altri, e tenta di conquistare questa ragazza, che per lui appunto diventa il simbolo della realtà, che non riesce a possedere col denaro, e appunto col sesso. Spoiler, non ci riesce, non vi dico come va a finire il libro, perché così ve lo leggete, è veramente bello. Altro filone, brevemente, il filone dei giovini. Moravia parla di giovini, scrive Agostino, scrive La disobbedienza, scrive anche Inverno del malato, che vabbè, è inutile che ve lo stia qui a raccontare, l'elemento autobiografico, in cui appunto parla della formazione dei fanciulli, partendo da Agostino, che è un primo adolescente, 14 anni, fino ad arrivare al protagonista della disobbedienza, in cui appunto una ribellione, di cui iniziavano a mettersi le base in Agostino, qui invece esplode, quindi c'è questo personaggio diverso. E poi invece Inverno del malato, che è un racconto minore, un po' a parte, che parla di un'avventura, diciamo, all'interno di un sanatorio, quindi sicuramente qualcosa di biografico in Moravia c'era.